Ravenna diventerà il centro di riferimento della Romagna per quanto riguarda la chirurgia robotica. A partire da gennaio, infatti, tutti i pazienti delle ortopedie osteoarticolari di Ausl Romagna potranno accedere alle tecnologie presenti all'interno dell'ospedale Santa Maria delle Croci. Il progetto, avviato grazie alla sperimentazione portata avanti dal dottor Belluati nell'unità di ortopedia e traumatologia del Presidio Ravennate, prevede di realizzare nel 2022 oltre 350 interventi che riguarderanno prevalentemente operazioni al ginocchio ma con possibilità di applicazione anche per l'anca e la spalla. I chirurghi degli ospedali romagnoli potranno quindi operare i propri pazienti a Ravenna consentendo loro di fruire della tecnologia robotica in grado di portare numerosi vantaggi tra cui la riduzione dei tempi del ricovero e del dolore post-operatorio. Siamo partiti con una sperimentazione, come vi siamo detto l'altra volta, e adesso questa sperimentazione l'abbiamo realizzata, è stata fatta una gara e quindi la robotica è ormai attiva a Ravenna. E dal primo gennaio sarà attiva in tutta la Romagna. Questo è un esempio non tanto per la robotica ma quanto per esempio di un nuovo tipo di organizzazione sanitaria che prevede un dipartimento trasversale unico per tutta la Romagna. Quindi esistono sei primariati diversi, sei reparti di ortopedia ma è un dipartimento unico. Quindi di conseguenza il cittadino romagnolo riceverà lo stesso trattamento in tutti gli ospedali. Siamo partiti con la traumatologia, tutti utilizziamo lo stesso tipo di sintesi eccetera e adesso con l'innovazione tecnologica nella quale siamo all'avanguardia rispetto ad altri territori, tutta la Romagna utilizzerà per esempio per le protesi ginocchi inizialmente, per l'anca successivamente, poi per la spalla il sistema robotico. Quindi è un sistema di organizzazione sanitaria che però garantisce anche nel pubblico una tecnologia che è la più all'avanguardia attualmente presente. È conseguenziale a quello che alcuni mesi fa, assieme al dottor Belluati, avevamo anticipato di inserimento di una tecnologia che dovrebbe consentirci di migliorare la qualità e l'efficienza e ridurre quelli che sono i reinterventi nell'ambito della chirurgia del ginocchio. Quindi sostanzialmente quello che ci si attende vuol dire una qualificazione, un utilizzo di tecnologia di ultima generazione e la riduzione delle conseguenze nonché del dolore.